Io sono Alberto Cialamella, nella mia relazione ho parlato dello sviluppo del circuito integrato RIPAC per il riconoscimento del parlato, che è stato sviluppato una trentina di anni fa in Xelt e ho preso l'occasione da questa presentazione per tratteggiare sia le attività che erano state fatte in Xelt nel riconoscimento del parlato, sia di inquadrare queste tecnologie che stanno diventando sempre più interessanti e pervasive e note al grande pubblico. Grazie a tutti.